Rieccoci insieme con Onni Dellino 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Onni voto al mercato del Bari che squadra ne viene fuori? Diciamo sette stavolta perché da una parte, lo ripeto, non sono stati raggiunti alcuni obiettivi che aveva espressamente richiesto il tecnico, dall'altra però è arrivato un numero di giocatori tale da coprire quantitativamente la rosa e soprattutto comunque alternative che danno possibilità al tecnico, come ho detto già prima, di poter contare su più giocatori a seconda dei reparti. In questo momento contiamo, in attesa di capire meglio la situazione di Contini, contiamo su sei difensori. Sì, in questo momento non è convocato e è ancora una situazione da ricomporre. Però al di là di lui ci sono sei difensori disponibili, ci sono in attesa che rientri un giocatore importante come Romizzi e che si rimetta al meglio Sabelli, ci sono comunque cinque alternative per i quattro ruoli dal centrocampo, due esterni e due centrali. Davanti ci sono chiaramente in questo momento Ebagua, Galano e De Luca in prima fila, ma non dimentichiamoci che con Bellomo abbiamo comunque ritrovato un giocatore di qualità che sulla tre quarti può garantire una giocata diversa. E poi, lo ripeto, c'è Caputo che comunque è un attaccante che in Serie B ci sta, lo ha dimostrato e poter avere Caputo come alternativa di un ipotetico tridente titolare è comunque un lusso che forse poche squadre si possono permettere in Serie B. Nicola dice che dobbiamo pensare di partita in partita, secondo te il Bari con questo organico ha la possibilità poi di agganciare quella zona che un po' tutti sogniamo, cioè la zona playoff? Guarda, proprio perché la prossima partita è Livorno-Bari, Livorno 37 punti, Bari 30 e Livorno è terzo può essere davvero, forse è stato detto tante volte, ma può essere davvero la partita fondamentale per capire quanto vale questo Bari e dove può arrivare. Perché al di là del fatto che con la vittoria sul Frosinone si sia arrivati a meno 4 dall'ottavo posto che virtualmente darebbe possibilità di accesso ai playoff. È chiaro che l'obiettivo di questo Bari è risalire la classifica più possibile ritrovando la continuità di rendimento che in particolare nella seconda parte della scorsa stagione è stata fondamentale poi per raggiungere l'obiettivo e completare quella rimonta. Quindi Livorno sì, prima di tutto, ma poi bisognerà vedere partita per partita come la squadra avrà assimilato i dettami tattici dell'allenatore e quello che poi chiaramente potrà offrire sul campo in relazione all'agversario di turno. Può essere uno snudo importante per la stagione del Bari contando che poi ci saranno anche due gare interne contro Vicenza e Lanciano. Dunque davvero la possibilità comunque di avvicinarsi alla zona che conta. 08501 9998 il numero per intervenire in diretto. Non so se abbiamo un problema in linea telefonica, oggi ci mancano anche i fetelissi. Ecco, pronto? Abbiamo un ascoltatore pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, ti sentiamo, vai. Sono Nicola da Bari. Ciao Nicola. Niente, volevo riferirmi al telespettatore di prima che parlava di Cassano. Niente, io volevo dire ma Cassano fino adesso non ha preso nessun avviso di garanzia di stampo mafioso perché sembra quasi che deve venire a Bari un mafioso. Invece dobbiamo rispettare il nostro presidente che sta facendo di tutto per portarci una Bari. Quindi come la vedete? Sarebbe una follia discutere Antonio Cassano. Può avere anche il suo carattere, però dal punto di vista tecnico farebbe fare assolutamente il salto di qualità questa squadra. Non so se abbiamo ancora in linea il nostro ascoltatore. No. Allora, Oni, ma tu ci credi davvero che poi possa Cassano scegliere Bari. Sarebbe una scelta di vita ovviamente, bisogna anche consultarsi anche poi con sua moglie Carolina. Quindi non è facilissimo. Poi troverebbe anche un ambiente particolare, una sorta anche di pressione nei suoi confronti molto accesa. Sì, probabilmente la situazione ambientale e le scelte familiari sono l'ostacolo maggiore perché insomma il fatto che abbia rifiutato offerte comunque ricche e importanti provenienti dall'estero, una dall'Inghilterra, dal QPR, più insomma alcuni campionati ricchi arabi è un segnale. In questo momento il suo problema non sono i soldi e comunque per tornare a Bari credo che non lo sarebbero, non ne farebbe credo una questione economica. Il problema ovviamente è proprio quello, c'è una parte della città che ha evidenziato più volte magari come il rapporto con Cassano si sia raffreddato man mano. Avrebbe comunque la possibilità dello stesso Cassano di riabilitarsi poi a tutti gli effetti. Certo, ma io credo che sia proprio quella la molla che spingerebbe lui a tornare, insomma chiudere in bellezza, chiudere il cerchio che magari ha preso, diciamo così, il suo rapporto con la città, ha preso una via traversa, diciamo con il tempo non ha fatto, sia lui non ha fatto mosse particolari per risistemare alcuni screzzi che c'erano stati negli anni scorsi, però questa potrebbe essere davvero un'occasione importante. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Maurilio da Bari. Ciao Maurilio. Buonasera, io volevo esprimere il mio parere in merito ad Antonio Cassano. Sono del parere che in questo caso la vita gli stia dando un'ennesima chance per dimostrare al mondo che non è quella persona che molti descrivono lontana da Bari, che non ama Bari, sono del parere che ha un'altra chance e la chance la dovrebbe sfruttare, cioè tornare in quella città che lo ha fatto esordire, che in quell'anno è retrocessa l'anno dopo in Serie P, ritornare a Bari, in una squadra che adesso è in Serie P, fare il padrone della squadra, perché per me Cassano potrebbe giocare a una gamba in Serie P oggi come oggi, fare il padrone della squadra e riportare la squadra in Serie A. Questo è quello che dovrebbe fare Antonio Cassano. Se lo dovesse fare avrà la stima di molti parisi per tutta la vita, se non lo dovesse fare sarà l'ennesimo Cassano, l'ennesima Cassanata. Grazie, ciao. Vabbè io non parlerò di Cassanata, ripeto, è comunque una scelta di vita, poi non sarebbe il primo caso magari in cui alla fine è la donna a scegliere più che il calciatore stesso. Vabbè è inevitabile che le scelte familiari siano fondamentali. Possono condizionare. Io credo che diventino poi a quell'età molto molto importanti nella scelta dell'uomo prima ancora che del calciatore. Io aggiungerei, sia in relazione a quello che hai detto tu o anche in relazione a quello che ha detto l'amico, un'altra cosa importante. Cassano ha vinto qualche trofeo in carriera, ma non l'ha mai vinto da protagonista. Ha vinto titoli a Real, ma non giocava. Ha vinto qualcosa a Roma, ma non era nel momento della vittoria, lui era ai margini già del progetto. Potrebbe essere l'occasione per salire sul piedistallo davvero da protagonista. Cioè ergersi a leader di una squadra, non solo con la giocata, che insomma le giocate di Cassano sono note a tutti. Fare qualcosa di concreto, sollevare un trofeo, prendere questa squadra, prendere questo bari che ripeto Nicola sta già plasmando in maniera ottimale per potersela giocare fino in fondo, ma un giocatore come Cassano avrebbe le qualità e l'età giusta, diciamo l'esperienza in virtù dell'età, per prendere per mano questa squadra e fare qualcosa di importante. Portarla in Serie A, vincela, magari diventare anche protagonista nel prossimo biennio, visto che si parla di un impossibile accordo fino a fine anno, più possibile rinnovo con la Serie A. Quindi è una ghiotta occasione per lui per diventare un vincente in prima persona. Un'altra telefonata, pronto? Sono Raffaele, chiamo da Bari. Ciao Raffaele. Ciao, io volevo intervenire riguardo al discorso che stavate facendo prima, non tanto su Cassano, ma se questa squadra può fare l'esploit dell'anno scorso, può avere quell'esploit che ha avuto l'anno scorso che tutti ben conosciamo. Per dire che, per come vedo anche i commenti dell'ospite, mi sembra di tornare indietro a fine agosto, in buona sostanza. C'è un po' di ottimismo, in realtà sì, abbiamo fatto dei buoni innesti, soprattutto a centrocampo in avanti, però dietro, parliamoci chiaro, siamo messi abbastanza male. Perugia ne è testimonianza e mi auguro che a Livorno si riesca a non prendere gol come nella bella partita di venerdì sera. Grazie per il tuo intervento. Beh, in effetti comunque è arrivato Ebaugo, che per la categoria è un signor attaccante, comunque schiattare l'omogiocatore, bell'uomo aggiunge qualità. Bisogna ovviamente, sì, diceva bene anche il nostro ascoltatore, valutare la difesa. È arrivato questo Rada che conosciamo poco, la sua prima apparizione è stato peraltro anche espulso, c'è da rilanciare anche da un punto di vista fisico lo stesso Rinaudo, e poi è arrivato anche un altro giovane come Benedetti, non so se lo conosci in maniera particolare, o se lo hai anche visto giocare? Sì, se no, Benedetti sia anche perché è un giocatore di talento di cui si parla da anni, finora non è arrivata la consacrazione che ci si aspettava, è un figlio d'arte, quindi è uno che comunque è cresciuto con il pallone e è comunque arrivato a questi livelli per merito, insomma, a suon di buone prestazioni. Io credo che sia un giocatore che in Serie B possa essere utile. Comunque condivido l'analisi dell'amico. Io stesso non me la sento di sbilanciarmi più di tanto perché è ovvio che, ripeto, non avendo raggiunto in toto quelli che erano gli obiettivi del tecnico Nicola, non si può parlare certo di un Bari che sarà una corazzata da qui a fine stagione. Però è giusto, ripeto, sottolineare come in particolare rispetto all'estate siano state fatte scelte particolarmente chiare. Sono stati scelti giocatori giusti per il suo modulo, per il suo progetto tattico. Sì, infatti, scelte mirate, assolutamente. Mirate, ma anche perché, poi in particolare, rispetto all'estate scorsa in cui si era puntato tanto sulla qualità di giocatori che però venivano da uno o più campionati grigi, uno o più campionati in ombra. Stavolta invece abbiamo preso gente che è adatta al credo tattico del tecnico. Peraltro, insomma, è inutile ricordarlo. Mangia era partito con l'idea del 4-4-2, ma poi ha cambiato più volte. Proprio perché non aveva trovato la quadratura del cerchio. In questo caso, invece, proprio le scelte nette di Nicola hanno aiutato la società a scegliere dei calciatori che possono sposarsi bene con il suo progetto e che li possano consentire di portare avanti il suo calcio. Poi, ripeto, la questione della difesa, dice bene l'amico, però evidenziamo anche che con un po' di fortuna, magari con qualche parata importante di Donnarumma, dopo la ripresa, dopo la sosta, abbiamo subito solo un gol in tre partite, 0 con Lentella, 1 a Perugia, giocando in 10 e più di mezz'ora, e 0 col Frosinone, oggettivamente però soffrendo parecchio nella prima parte. Sì, soffrendo sopra il primo tempo, ci è andata bene. Però va detto che comunque quel trio difensivo che sta giocando adesso, Salviato, Camporese, Filippini, ha dimostrato qualche, diciamo, qualche, ha mostrato qualche cenno di crescita rispetto al recente passato. E poi sono arrivati Benedetti, Rada e Rinaudo, che è qualcosa sul piano dell'esperienza o della qualità, ripeto, diversa da giocatori che abbiamo già in organico, la potranno dare. Quindi attendiamo che comunque Nicola possa avere a disposizione con continuità questi calciatori e tirare fuori quello che poi sarà il terzetto che giocherà maggiormente fino a fine campionato, garantendo, speriamo, solidità al reparto. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, mi chiamo Ivano, chiamo da Valenzano. Buongiorno a tutti, a tutti e due. Vorrei dire una cosa, a mio parere l'operazione Cassano è un'operazione di marketing da parte di Paparesta. Oddio, che ha anche le sue positività, non dico di no. È anche un'operazione, sì, importante dal punto di vista del marketing, però, ripeto, non sottovalutiamo comunque l'aspetto tecnico anche dell'operazione. Ma l'aspetto tecnico, proprio lì volevo arrivare. Il Carpi è il primo in classifica con 11 sconosciuti. La Serie B è un campionato non tecnico, secondo me, è un campionato molto fisico. Non so se Cassano potrebbe essere utile al Bari. Non mi sembra. Se poi Cassano fosse talmente forte da prendere il Bari e portarlo in Serie A, avrebbe salvato il Parma dalla Serie B. È difficile, perché se hai visto un po' anche la situazione del Parma, risollevare quel Parma da solo era praticamente impossibile. L'ha portato in Europa League l'anno scorso. Sì, sì, quest'anno era davvero impossibile poter fare la differenza. Comunque, grazie per il tuo intervento, condividi comunque la considerazione al nostro ascoltatore, anche sulle difficoltà che si potrebbero trovare in un campionato poi alla fine duro come quello di Serie B dal punto di vista fisico, soprattutto. Ma io credo che una squadra quadrata per dieci undicesimi, una squadra che abbia trovato, diciamo, rimaniamo nel campo delle ipotesi, tre difensori, quattro centrocampisti e due per la fase offensiva e Cassano poi fosse la ciliegina sulla torta per dare qualità, io credo che non avrebbe alcun problema. Anche perché Cassano, se viene messo al centro del progetto e se ha calciatori che poi lo seguono, nel vero senso della parola, lui fa segnare chiunque. Io ho visto calciatori, nelle stagioni scorse, che hanno raggiunto un certo bottino di gol solo perché hanno giocato accanto a lui. Anche quest'anno ha messo la palla dieci volte davanti al portiere e poi se sbagliano... Lo ha fatto anche l'anno scorso, lo dicevo prima, ha portato il Parma in Europa League a suon di assist e gol. È chiaro che poi l'Europa League è stata revocata, ma quello che è stato fatto sul campo resta. Così come in passato, faccio qualche nome, Maggio, Pazzini, tanti calciatori che accanto a lui hanno offerto un rendimento al di sopra, anche delle proprie possibilità, raggiungendo bottini di gol importanti proprio grazie agli assist di Cassano. Quindi il dubbio, sì, lo posso anche condividere fino a un certo punto perché è un campionato tosto, quello di Serie B, magari che non lascia tanto spazio alle qualità. Però se un giocatore ha quella valenza tecnica, io credo che non abbia problemi. Anzi, forse ancora più facilmente riuscirebbe a fare breccia nelle difese avversarie. Rispettiamo le opinioni di tutti, però io Cassano lo prendo sempre. Dobbiamo andare in posto pubblicitario tra poco.